se mi carichi io non è che la posso trasferire la vostra o nero mi temba Mario Mario ci t'erai troppo da scaricatore e il 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 lo il 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 Grazie a tutti. Un saluto per la stampa. A dieci. A dieci. Un saluto da San Felice. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti.